Ciao, se avevi intenzione di ascoltare bene la musica in casa, sta per terminare la promozione di Sonos dove hai la possibilità di comprare una Sonos One, una Sonos One SL, quella senza comandi vocali, oppure la barra sonora, la Sonos Beam, con 50 euro risparmiate a prodotto. Devi sapere che la promozione termina adesso tra poco il 23 di aprile, non perdere questa occasione. Affrettati a contattare uno dei nostri rivenditori partner, fai in modo che ti consegni direttamente il prodotto o saranno i rivenditori stessi che poi ti guideranno nella configurazione, quindi approfittate adesso perché ascoltare bene la musica in casa è una grande soddisfazione. Ciao!